Rieccoci in studio con un nuovo appuntamento di In Primo Piano, come voi tutti sapete nel corso di queste settimane buona parte dei nostri appuntamenti che sono destinati alla riflessione, all'analisi di temi e problemi sono inevitabilmente orientati al traguardo delle elezioni europee previste per l'8 e 9 giugno ed anche elezioni amministrative perché lo ricordiamo in Calabria vota più del 30% dei comuni. Quest'oggi abbiamo ospite in studio, una personalità di primo piano, candidato alle elezioni europee nel partito della Lega, si tratta del senatore Roberto Marti, grazie intanto per essere qui con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Tra l'altro il senatore Presidente della Commissione Cultura del Senato è impegnato in questa corsa che è una corsa particolarmente importante, lo si ripete da più parti perché queste elezioni nel percorso di costruzione, di definizione dell'idea di Europa sono elezioni particolarmente importanti perché la situazione geopolitica mondiale ed europea è particolare, insomma esserci stavolta è forse più importante che in altre circostanze. Sì, diciamo le elezioni europee sono a volte e spesso state sottovalutate molto da, non tanto solo dalle istituzioni ma dai cittadini, elezioni che se non trovano il conforto delle elezioni amministrative hanno una bassissima affluenza che come diceva lei prima è anche legata a degli importanti e drammatici eventi della nostra società degli ultimi anni, in particolar modo adesso siamo in un momento storico, politico, economico oltre che in un'uscita anche di un'emergenza sanitaria molto impegnativa e quindi diciamo ci sono diversi fattori che portano a un rallentamento sicuramente verso la propensione a voler essere coinvolti dalla politica, quindi spetta a noi cercare di far comprendere quanto invece importanti siano le elezioni europee, basti pensare che per chi proviene dalle assemblee legislative come il sottoscritto non c'è un provvedimento di Camera o Senato e quindi anche poi dei consigli regionali, quindi di tutte le assemblee legislative che a cascata arrivano alle pubbliche amministrazioni che non facciano o ratifiche o comunque provvedimenti che provengono ormai dalla comunità europea. Questo che lei dice è particolarmente importante, perché in genere l'approccio è l'Europa viene percepita così distante e a volte così ostile che diciamo viene quasi naturale non occuparsene, parlo appunto dell'elettorato che evidentemente assegna a queste elezioni non il significato di altre competizioni elettorali, però ci sono alcuni temi, tutti quanti, ma alcuni temi riguardano direttamente il ruolo dell'Europa e la relazione tra Italia e Europa. Se lei è d'accordo partirei subito con i temi, c'è un gigantesco tema che riguarda l'Italia ed è il tema delle infrastrutture, delle risorse destinate allo sviluppo dei nodi infrastrutturali italiani, come stiamo messi e soprattutto qual è la prospettiva? Sì, purtroppo se non diciamo per fortuna perché non ci mettiamo la testa per bene, è tutto molto legato all'Europa, l'Europa che viene vista a volte come un impedimento, abbiamo diversi temi diciamo sul tavolo, soprattutto al sud dell'Italia, misura impegnativissima per queste elezioni europee, abbiamo il tema infrastrutturale che al sud qui soprattutto da voi, ma anche nella mia Puglia è molto impegnativo, basti pensare che da me in Puglia abbiamo lo stesso problema che voi però sta per essere, grazie a Dio risolto, dell'alta velocità. Io abito a Lecce, per arrivare a Lecce da Bari ci vuole un'ora e mezzo, un'ora e tre quarti per arrivare a Roma, ci vogliono cinque ore e mezzo. E' evidente che ci sono delle fasi ancora molto lunghe e impegnative, ma veniamo diciamo al noi, ci sono degli investimenti importanti e siamo in un momento e in un contesto serio e fondamentale per lo sviluppo di questa terra del Mezzogiorno d'Italia. 51 miliardi impegnati nel quinquennio da parte del Ministro Salvini sulle infrastrutture, un impegno importante, del quale impegno diciamo già 30 miliardi sono destinati, come dicevamo prima, all'alta velocità, che per voi come per il resto d'Italia è fondamentale. Cambia il mondo. Cambia il mondo, cambia il mondo, cambia il mondo da un punto di vista personale dei nostri cittadini, cambia il mondo da un punto di vista funzionale dell'economia circolare, ci sono tantissimi altri investimenti, su questi 30 milioni si aggiungono più di 21 milioni di infrastrutture varie fondamentali per lo sviluppo di questa, ed è un'opportunità che noi non possiamo non correlare all'impegno forte dell'Europa, perché l'Europa è vista come diceva lei, come un problema, perché non viene governata. C'è un tema, lei ha parlato delle linee ferrate, sulle linee ferrate corrono le persone che si muovono e si spostano e le merci, quindi il tema delle linee ferrate è particolarmente importante e con riferimento alle merci qual è la prospettiva, perché è evidente che il Sud ha bisogno. La prospettiva è quella, ed è già un impegno anche qui sempre del Ministro Salvini attraverso la holding di Ferrovie dello Stato e di RFI, di portare lo scalomerci alla Mezzia, non è possibile uscire anche qui come all'alta velocità a scollegare le merci, quindi l'economia reale con una distanza così forte, quindi il prossimo impegno che è già in cantiere in maniera consistente da parte della Lega è quello di arrivare con lo scalomerci alla Mezzia Terme e questo sarà veramente immediato. Tra l'altro questa è una prospettiva la cui intelligenza è evidente, perché tra l'altro parliamo di una città che è baricentrica e quindi da questo punto di vista non può che essere valutata come ragionevole la scelta. C'è un altro tema che nel corso degli ultimi mesi, delle ultime settimane sta agitando parecchi operatori in Italia, ma anche nella nostra regione che lega buona parte della sua prospettiva al turismo, ai servizi, alla gestione delle spiagge, alla capacità di costruire un sistema di ricettività e di servizi turistici. Parliamo degli ormai famigerati stabilimenti balneari, il tema è quello delle concessioni, una vicenda che è stata gestita forse in una maniera caotica, c'è un indirizzo europeo che un po' mozza senza troppi distinguo. Qual è la vostra posizione, qual è il vostro lavoro, qual è la prospettiva che questi operatori possono realisticamente attendersi? Su questo, più che caotica, io la definirei disorganizzazione organizzata. Lei dice che noi dal 2018, le spiego anche per te, noi dal 2018 come lega nel primo governo giallo-verde, nella nostra prima finanziaria riuscimmo come lega con la legge Centinaio a dire la nostra in maniera forte, in maniera forte su quello che volevamo del nostro turismo. Le parlo sempre da uomo del sud, noi viviamo di turismo in maniera importante, su questo io ci tengo a dirlo, noi abbiamo tantissimi imprenditori familiari che hanno investito 20-30 anni, forse anche in generazioni 50 e che sono bloccati da oltre 20 anni nell'incertezza dell'investimento. Nei tre noi parliamo tantissimi, sono è vero 35 mila in tutta Italia con però un generatore di impresa fondamentale su servizi, su oltre che collaboratori e dipendenti ma anche su fornitori, oltre che utenza prossima, che superano un prodotto importante economico nella nostra nazione. Centro-sud c'è un'incertezza dell'investimento che è paurosa, mentre noi stiamo parlando le persone non sanno se devono acquistare un nuovo lettino, un nuovo ombrellone, se devono riparare in un determinato modo. Noi partimmo in maniera chiara con la legge Centinaio, un altro emendamento partito proprio dal Senato in quella legge di bilancio, era a mia prima firma, anche sugli smontabili, cioè tutte le strutture che vengono rimosse, montate e smontate perché precarie, noi riuscimmo a sanarle in che modo? Non con una sanatoria ma con una semplice revisione. Annualmente i comuni e quindi sui controlli, se non vi fossero state delle variazioni, potevano anche permanere nel non smontarle. Cosa significa questo? Minori costi per la gestione, soprattutto forse tutela maggiore dell'ambiente. Il concessionario, il nostro concessionario è il custode del proprio posto di lavoro, quindi non ha nessuna necessità di smontare e rovinare ciò che l'anno dopo deve rimontare il benessere per la propria famiglia e per i propri collaboratori. Ora da quel momento in poi cadde quel governo, i decreti attuativi non furono mai fatti e l'incertezza è ripartita. Un'incertezza diciamo che ha visto dominante l'Europa che noi vorremmo invece non cambiare, ma spiegare che la certezza di mantenere non lo stato dei luoghi, ma mantenere la tutela dei nostri imprenditori turistici, che le ricordo e ricordo ai telespettatori che negli anni 80 noi avevamo il deserto sulle nostre spiagge, oggi abbiamo una ricchezza enorme, sconfinata, ricchezza che va tutelata e va tutelata in una maniera specifica. La Bolkestein parla e domani ne parleremo in un convegno che mi vede vostro ospite territoriale, ma che stiamo sviluppando in tutte le parti d'Italia, un convegno dove parleremo di che cos'è la Bolkestein e la Bolkestein ha un solo passaggio che va sottolineato e va rimarcato sempre, interviene laddove la risorsa è scarsa e grazie al Ministro Salvini con un nostro emendamento che demandava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la famosa mappatura che si è svolta presso il suo Ministero, noi abbiamo ormai avuto un dato ufficiale che fino ad oggi non c'era, quella mappatura riporta che la risorsa non è scarsa. Certo, tra l'altro chiunque per esempio frequenta le spiagge calabrese sa benissimo. Quindi diciamo, siccome noi parliamo di concorrenza e quando si parla di concorrenza, noi nel rispetto della concorrenza dobbiamo tutelare che questa concorrenza ci sia, per tutelarlo abbiamo da poter tutelare i nostri imprenditori e soprattutto mettere in asta, in maniera serena, tutto il resto perché c'è il resto. Quindi a questo punto voi sapete che sono in ballo degli emendamenti importanti in questa fase, abbiamo le varie sentenze che stanno mettendo in veramente subbuglio le intere amministrazioni comunali che vanno tutelate perché da domani loro non sanno cosa fare e come svolgere questa situazione e vanno tutelati sopra tutti i nostri imprenditori per dargli la certezza dell'investimento, la certezza della stagione che ha le porte. Tra l'altro su questo tema anche la narrazione è stata un po' alterata perché quando si parla di stabilimenti balneari la narrazione riguarda grandi centri, grandi fatturati, quando in realtà sappiamo che in tantissimi posti, penso per esempio alla nostra regione, lo stabilimento balneare spesso è sicuramente un business, sicuramente un lavoro, ma è un sostentamento per una o due famiglie insomma, non è un po' diciamo non siamo ad a Abu Dhabi o a Dubai. Allora l'ultima domanda perché so che lei è strettissimo con i tempi, lei lo ha citato poco fa, lo hanno ascoltato i nostri telespettatori, è pugliese, quindi espressione di una delle regioni che costituisce il Mezzogiorno d'Italia ed è assieme alla Calabria evidentemente protagonista di un Sud che nell'interlocuzione con l'Europa, a parte che con il governo centrale, ma nell'interlocuzione con l'Europa è evidente che il futuro dipende essenzialmente dalla capacità di rappresentare le istanze meridionali nel cuore, insomma lì dove si decide. Da questo punto di vista lei come declinerebbe questo rapporto da uomo del Sud, da pugliese, da meridionale con la nebbia di Bruxelles? Diciamo abbiamo già superato questo problema, siamo passati dalla nebbia di Milano in cui la Lega era un partito del Nord a farlo diventare, grazie a Salvini, un partito del Sud. qui abbiamo Domenico Fruggele che prima di me ha iniziato a credere in un movimento come la Lega nazionale e con grande fatica abbiamo dato espressione alle istituzioni e se le istituzioni sono le istituzioni del territorio, quelle istituzioni potranno difendere quel territorio, anche in un contesto di un partito che viene ancora visto oggi come un partito del Nord. Beh, se noi non investiamo come classe dirigente, questo che ci lega al Sud, diciamo nella mia candidatura e quella di tanti altri colleghi che faranno, sono certo del nostro partito il lavoro migliore, noi con questa candidatura e la Lega nel Sud Italia si candida a rappresentare il Sud in Europa, nel vero senso della parola e per rappresentare un territorio ci vogliono persone di quel territorio. Noi ci siamo, ce la mettiamo tutta, siamo convinti di avere un governo nazionale alle spalle che ci tutelerà nella grande crociata verso l'Europa, un'Europa che per essere gestita deve essere cambiata. Grazie al senatore Roberto Marti, noi abbiamo stretto i tempi perché appunto in campagna elettorale si corre, abbiamo anche rubato qualche minuto in più, grazie davvero, buona campagna elettorale, insomma in bocca al lupo. Grazie a voi e in bocca al lupo per tutte le cose meravigliose che questa regione può esprimere. Grazie a voi e in bocca al lupo.